ciao a tutti ragazzi bentornati continuiamo la nostra guida sulle zone della mappa di apex in questa prima parte come vedete stiamo scendendo in quella che si chiama la fossa ci sono 6 o 7 capsule da aprire è veramente un rischio io non scendo mai bisogna assolutamente droppare un'arma altrimenti si muore come vedete c'è un nemico lo butto giù probabilmente non ha trovato un'arma invece qualcun altro l'ha trovata per fortuna i miei compagni sono stati fortunati anche loro hanno trovato subito un'arma siamo riusciti a uccidere il team che è sceso con noi ma è veramente rischioso perché se aprite una capsule e non trovate niente siete morti e la partita insomma è stata inutile quindi veramente vi consiglio di scendere qua e come vedete una zona circolare dove ci sono queste capsule ai bordi adesso in questo momento ci stiamo organizzando un pochettino con quello che abbiamo raccolto a me serve della salute per via dello scontro e il ragazzo che è in squadra con me mi dà una mano e mi lascia un kit quindi mi curo e proseguiamo sulla mappa do intanto un'occhiata per vedere che non scendano altri team e si prosegue qui ragazzi stiamo scendendo accanto alla fossa ossia nel bunker il bunker come vedete qui dall'alto attraversa una montagna e si può entrare sia da questa parte che dalla parte opposta ci sono alcune capsule ognuno di noi va e se ne apre una in modo da non scendere tutti e tre nello stesso posto tra l'altro sono con un team che non conosco ho fatto il matchmaking loro non mi aspettano iniziano ad andare io vedo che ci sono degli spari quindi li raggiungo immediatamente come vedete ricevere degli attacchi da quell'area lì è veramente poco probabile tutto ciò che succede succede qui dentro solitamente mi son presa il gas di caustic però i miei compagni l'hanno chillato quindi abbiamo questa scalinata e delle camere laterali dove si trova qualche drop la cosa importante è che questa scalinata che vedete ovviamente entrando da una parte ce l'avremo in discesa entrando dall'altra ce l'avremo in salita e quando ce l'abbiamo in salita è più difficile perché i nemici ci sparano dall'alto sto aspettando il mio compagno che è rimasto indietro e proseguo anche da questa parte qua ci sono delle capsule adesso il mio compagno mi ha segnalato uno zaino l'ho preso guardate un po è un grande edificio in cemento dove attorno si sviluppa il resto della mappa quindi quando si scende il rischio l'abbiamo un attimino quando abbiamo andiamo a lottare queste casse e poi eventualmente all'interno soprattutto quando si restringe l'anello qui ragazzi stiamo scendendo a mercato anche mercato è un po particolare a me piace tantissimo scendere qua però se qualcuno scende con voi è un po come la fossa cioè dovete droppare tutto quello che c'è il prima possibile noi solitamente prendiamo tutto anche quello che non ci serve in modo che chi passa dopo di noi o chi è sceso con noi non trovi assolutamente niente perché anche qua se si scende in diversi team chi trova l'arma butta giù gli altri come vedete si organizza su due piani differenti con delle stanze laterali dove trovate sempre armature scudi insomma caschi ulteriori armi e diverse mod io adesso ho trovato la mozambique che mi con cui mi trovo veramente bene e la tengo lateralmente ci sono delle uscite da cui poter entrare e uscire c'erano tre scudi bianchi che non ho mai visto insieme e dall'alto è chiuso però ci sono quei due ingressi dove siamo scesi da cui potrebbe scendere qualcun altro ora sto facendo un giro per farvi vedere la pianta rettangolare dove a ogni lato solitamente si trova qualcosa da prendere quindi do un'ulteriore occhiata prendo tutto quello che posso i miei compagni stanno facendo la stessa identica cosa ripuliamo proprio tutto insomma adesso se notate ci sono queste zip da cui è possibile ritornare nel tetto per non uscire scoperti vi faccio vedere un po un 360 di quello che c'è intorno guardate qua abbiamo gli edifici della piazza del mercato qui a sinistra si può passare si resta coperti perché nella parte laterale c'è la montagna qui invece a destra abbiamo ancora questi edifici della piazza del mercato e dietro c'è school town giusto per renderci un po conto di dove ci troviamo come vedete sto avendo un problema con il joypad e qua volevo chiedervi un consiglio perché io uso il joypad originale della playstation però la leva destra l'analogico destro mi sta spingendo la visuale verso l'alto senza che io voglia questa cosa qua quindi volevo chiedervi che tipo di joystick utilizzate voi per giocare intanto qui ragazzi siamo scesi sui ponti qui zona centrale della mappa col fiume centrale come vedete io qui passo sempre vicino alla zampa del dinosauro perché solitamente quando ci quando si sposta c'è un bel loot sotto al 90% questa è una zona in cui oddio io non scendo mai perché sono al centro della mappa e tra l'altro sono alla mira di tutti perché siamo in una zona abbastanza sotto elevata quindi salgo immediatamente verso l'alto tra l'altro sto giocando con una persona in questo momento come vedete vi faccio vedere la posizione è tutta un'area sotto elevata apertissima quindi vi possono sparare da ogni direzione se non siete esperti vi sconsiglio all'inizio di scendere in questo punto mi avvicino anche qui per farvi vedere la parte destra e come vedete è tutto aperto grazie a tutti